Antonino Real Muto, l'emozione del cash con i grandi campioni, cosa si prova? È una forte emozione, io è la prima volta che lo gioco a questo livello, però ci tengo a dire che mi dovete chiamare Nello 14. È un circolo che ha fatto in qualche modo la storia per quanto giovane del Texas Hold'em. Sarà ancora una storia, sarà ancora una storia a Torino, mi conoscono e penso altrove. La voglia di tornare a giocare live, magari anche piccoli tornei al di fuori del casino, per poi magari arrivare a giocare in questi meravigliosi punti d'incontro. Sicuro, questo sicuro, è un gioco che mi piace, dove penso che questo è il gioco del futuro. Per noi in Italia, perché diciamo, io lo gioco da due anni, adesso è un anno che non giocavo. È costato un po', però valeva la pena sfidare pescatori. È un pochissimo pescatore per confrontarmi con loro, ho perso proprio un piatto con un pescatore, sono pentito, gli ho regalato qualcosa, però dopo qualcosina mi ha ridato, pazienza. Grazie. Grazie a tutti.